Salve sono sempre io Artlex artigianato. Allora oggi faremo un tutorial velocissimo e vi farò vedere come vestire un neonato che servirà da ornare una torta. Eccolo qua. Questo è stato fatto con i nostri stampi neonati in porcellana fredda 5 cm. Ci servirà uno stampo fiocchi potete trovare all'interno del nostro sito www.artlexartigianato.com dei colori per l'incarnato. Potete usare qualsiasi colori ma li potete trovare anche all'interno del nostro sito. Ovviamente un po' in stampi per i pizzi, colla vinilica professionale e un rullo professionale per stendipasta. E ovviamente non poteva mancare la porcellana fredda di Artlex artigianato. Vedete qui c'è l'etichetta con gli ingredienti e tutto quello che segue. Quindi qua invece porta l'etichetta a disposizione sia della grammatura e poi del marchio che la produce. Artlex artigianato si occupa solo e esclusivamente di artigianato e paste per modellare in generale partendo dalla porcellana fredda porcellanizzata. oppure normale, chiaffino ed altre paste per due mesi. Ma iniziamo subito il nostro tutorial. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.